Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 17 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Più forti grazie all'appoggio della Luna. Capricorno, segno prudente per antonomasia, doppiamente oggi che le fantasie netuniani vengono mantenute sotto controllo dal vostro astro guida Saturno. Solo la bianca signora di tanto in tanto deragli un po', ma poi che la sie torna sempre a casa. Con questa leziancina di prudenza anche voi andate con i piedi di piombo, concedendovi il tempo necessario per rifletterci su. Meglio fare una cosa bene che cento così così, sentenzia il grillo parlante, tanto più che i vostri interessi oggi non vertono solo sul lavoro, complice la Luna in coppia con Urano l'amore vi spinge con malizia sul lettone, mentre i vostri puppi, sempre più scatenati, vi reclamano per correre e giocare. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. Un vostro collega oggi sarà particolarmente insopportabile, sarete insofferente a tutto ciò che farà. Tenete a bada la lingua e prendete tutto con pazienza. Giornata strana. Alti e bassi d'umore. Evita di acquistare cose inutili. Situazione alquanto tesa in famiglia nella prima serata. Cerca di uscire e distraiti più che puoi. Vivere in un sogno e di sogni va bene, ma non sempre necessariamente è il meglio per voi. Dovrete essere più realistici se volete venire fuori da alcune situazioni che vi stanno creando problemi. Sarai ammirato e stimato. Entrate di soldi. Consigliate gli investimenti. Oggi la luna metterà in risalto il lato spirituale del tuo carattere. Non inseguite falsi miti. Imparate a valutare il prossimo per ciò che è senza farvi illusioni. Se sentite il vostro partner molto esigente, rendetevi conto che forse vuole solo spronravi a fare meglio e a dare il meglio di voi stessi. Potrebbe arrivare una notizia per posta o per telefono che vi lascerà perplessi. In ogni caso provate a pensare positivo, tutto si risolverà a breve. Apprezzate ciò che di buono fa per voi il partner. Non è comune incontrare persone generose come lui. Attenti a come parlate e a cosa direte in una particolare occasione che vi si presenterà oggi, quello che direte farà appendere dalla parte vostra lago della bilancia. Fase a dir poco gloriosa per voi. Nessun pianeta vi contrasta oggi ma, gli stimoli, le tante proposte e attività vi frastornano. Forse ci sarebbe bisogno di una fase di maggior riposo poiché il momento parla quest'oggi della necessità di recuperare ristoro nelle ore notturne. Plutone, pianeta che corrisponde alla politica, sta attraversando il segno buon vicino dell'acquario e vi può fare esprimere, in casa o negli ambienti più disparati, le vostre idee. Fate attenzione a non esporvi troppo e, soprattutto, non vi lasciate trascinare in polemiche che avrebbero l'effetto di non farvi arrivare a capo di molto, specie se appartenete alla terza decade. Generosa e amichevole la luna in toro, segno di terra in trigono al vostro, piacevolmente dinamizzata dal raggio elettrico di urano. Lo stesso vale per l'immaginifico Nettuno in sé stile, dunque in fatto di creatività oggi nulla da eccepire, in azienda, in famiglia, ovunque vi troviate con gli altri gestirete rapporti sereni e produttivi. Tutto alla grande le relazioni interpersonali lavorative e affettive, il partner vi solletica promettendovi una sorpresa, i vostri figli un po' ribelli ma ragionevoli non vi danno grattacapi, in più con il sole, mercurio e da oggi pomeriggio anche venere in acquario, arriva una gratifica, i vostri investimenti filano col vento in poppa, perciò potete permettervi qualche extra. Amore ed eros. Che siate in coppia da tempo o abbiate appena fatto un incontro fatale, il senso della giornata è che l'amore oggi vi sorprende, facendovi innamorare di uno sconosciuto o rinnamorare della persona che avete accanto da anni. In ogni caso una sensazione meravigliosa. Sorprese anche dalla cicogna, che decide di arrivare all'improvviso, magari con un doppio. Una volontà di ascolto e di dialogo con la persona amata torna utile quest'oggi a far sì che alcune nubi passeggere nella vostra coppia si diradino definitivamente. La luna benefica dal toro per il vostro segno è la magica sponsor celeste di questa situazione. In special modo se siete nati nella terza decade. Lavoro e denaro. Idee geniali subito applicate anche sul lavoro, risolutori in caso di situazioni bloccate a metà o di trattative apparentemente senza soluzione. E invece spostando di qualche passo la traiettoria tutto si risolve in automatico, l'interlocutore finalmente vi dà carta bianca e l'esame tanto ostico si conclude con un bel 30 sul libretto. In serata un film o uno spettacolo teatrale vi faranno riflettere sul senso della vita e su tutti i suoi misteri. Siete ragazzi ancora sui banchi di scuola o dell'università? Mercurio e Saturno, i due pianeti deputati alla riflessione logica e all'apprendimento, vi sono amici, dai vicini pesci e dal buon vicino acquario. Attenzione tuttavia a mantenere bene i concetti a memoria, magari appuntandoli su di un foglio. Benessere. Quando l'umore è alto anche il fisico ti è indietro, vi sentite sereni e piacevolmente eccitati, come un vinello frizzante con il giusto dosaggio di bollicina naturale, senza l'aggiunta di gas. Felici e contenti come nelle favole, godetevi questo piccolo Eden, non si ripresenta così spesso. Denaro. Vi arrivano finalmente introiti che attendevate da tempo. Giove vi ricompensa delle fatiche passate. Ora potete pensare a come spendere questi soldi se mettendoli a reddito con un buon programma di investimento a lungo termine. Per lei, in fibrillazione, lui finalmente si sta accorgendo di voi, lo capite dagli sguardi di fuoco che vi lancia. E pensare che fino a ieri nemmeno vi vedeva. Per lui, stanchi dopo una settimana di lavoro impegnativa e con tanti pensieri e progetti in testa, la vostra oretta di palestra ve la regalate comunque, un modo per staccare la spina e dirigere l'energia su un altro fronte. Dalla mente al corpo, ma pur sempre roba vostra. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.